Ciao a tutti, io sono Andrea e come sempre vi do il benvenuto sul mio canale. Chi di voi ricorda Maurizio Minghella? Sicuramente molti, visto che è uno dei casi più inquietanti accaduto in Italia, ma anche se molto conosciuto, voglio proporvelo, perché ai miei occhi è uno dei quei casi che dovrebbe far capire che a certe persone non è il caso di dare una seconda possibilità. Non tutti ne sono meritevoli, non tutti si ravvedono, soprattutto pazzi psicopatici come il caro Minghella. Questo è il classico caso in cui la bontà si è tramutata in buonismo da quattro soldi. Oggi vi riporterò la storia di un serial killer nostrano che non ha nulla da invidiare ai più noti assassini d'oltroceano. La particolarità del caso, come detto, risiede nel fatto che l'essere in questione è riuscito, come molti altri d'altronde e purtroppo, ad intortare le istituzioni e tornare ad essere un uomo libero, anzi semilibero. Ma a causa del suo quotiente intellettivo, che era la soglia del ritardo mentale, e non per modo di dire aveva un QI pari a 70, praticamente se la combatteva con un topo da laboratorio, cede nuovamente alle sue pulsioni e comente nuovamente delitti atroci e per questo viene nuovamente, speriamo stavolta in modo definitivo, sbattuto in galera. Sto parlando appunto di Maurizio Minghella. Andiamo a conoscere meglio il galantuomo. Maurizio Minghella nasce a Genova il 16 luglio del 1958. La famiglia non è proprio da mulino bianco, purtroppo, e cresce nel quartiere di Bolzaneto, in Val Polcevera. Maurizio ha quattro fratelli e quando la madre si separa dal loro padre, si raccompagna ad un uomo da poco, un alcolizzato, debosciato, a cui piace menare le mani contro chi non può difendersi, ovvero la mamma, i suoi fratelli e lui stesso. Certo, in un ambiente del genere sarebbe difficile venire dritti, ma ricordiamoci che aveva comunque quattro fratelli che hanno passato la sua stessa infanzia, i quali, almeno per quanto ne so io, non si sono mai macchiati di crimini atroci come i suoi, quindi c'era, anzi c'è qualcosa di malato ed innato in lui. Come ha detto Minghella non brilla per intelligenza, infatti a 12 anni frequenta ancora la prima elementare e non riuscirà mai a superare la seconda. Sicuramente a causa dell'esempio ricevuto da quello scarto che era il compagno della mamma, Maurizio è manesco con i suoi compagni di scuola e, capirà che coraggio, in prima elementare aveva 12 anni, un altro a cui piaceva vincere facile. Uscito da scuola inizia a fare piccoli lavoretti per guadagnare qualche soldo, ma i suoi introdi maggiori provengono dal furto di motorini, motociclette ed automobili. Questo gli permette di coltivare le sue vere passioni, la discoteca, le belle donne e le prostitute. Minghella, ancora giovanissimo, si vantava di aver avuto già 100 donne e che sarebbe arrivato presto a mille. Per la sua passione per l'attore della febbre del sabato sera, che amava scimmiottare anche nel vestirsi, nel giro delle discoteche della periferia di Genova veniva chiamato il Travoltino o il Gion Travolta della Val Polcevera. Di lui in effetti non aveva nulla, tranne quell'aria un po' strafottente, accentuata dai suoi capelli lunghi e naso da pugile, che si era guadagnato frequentando una palestra a livello dilettantesco, ma dalla quale era stato allontanato perché troppo violento. Il pugilato è uno sport serio, non una rissa da strada, e nella strada a lui piaceva invece attaccare briga. Era conosciuto infatti anche per il suo carattere particolarmente rissoso. Quello che gli fece fare il salto di qualità, per così dire, furono due eventi tragici. Il primo, la morte del fratello per un incidente. Lui vide il suo corpo probabilmente martoriato all'obbitorio e ne rimase sconvolto, ma forse allo stesso tempo affascinato. Poco dopo si sposò con una povera ragazza di 15 anni, Rosa Manfredi, che dipendeva da psicofarmaci. Il matrimonio non era certo per amore, come lui stesso dichiarò, ma più per scommessa, per caso. La donna rimase incinta, ma a causa di una overdose da psicofarmaci, subì un aborto spontaneo e improvviso, e Mengella stavolta ne rimase veramente segnato, anche stando alle parole con cui lui lo descrisse. Una fontana che grondava sangue, nella quale provava ad immergere le mani per fermarla. Da qui esplose la sua fissazione per la morte ed il sangue. L'anno della svolta è il 1978. Siamo a marzo, precisamente il 16, giorno in cui le Brigade Rosse rapiscono Aldo Moro, un rapimento che avrà un eco enorme in tutto il paese. Il 18 aprile dello stesso anno viene ritrovato il corpo di una povera prostituta, Anna Pagano, tossicodipendente che faceva quella vita per pagarsi la droga. La poveretta fu ritrovata abbandonata in un campo nei dintorni di Genova con la testa martoriata ed il corpo violato con una penna rossa. Era stata picchiata e violentata e sul corpo una scritta, Brigade Rose. Sì, avete capito bene, Rose. Aveva commesso anche un errore di ortografia. Gli inquirenti si resero subito conto che si trattava di un tentavitivo puerile, veramente bambinesco di depistaggio, qualcosa di grottesco. L'8 luglio Giuseppina Gerardi ha la sfortuna di essere la sua seconda vittima, uccisa con le stesse modalità, ed il corpo nascosto in un'automobile abbandonata. Il 18 luglio è la volta di Maria Catena Alba, detta Tina, una ragazzina di soli 14 anni. Anche lei ritrovata nuda, stavolta aveva escenato un su***o per impiccagione. Peccato che la ragazza fosse stata picchiata, violentata e strangolata. Gli inquirenti quindi capirono che anche stavolta c'era qualcosa di poco chiaro. Per questo omicidio avvieno arrestato un ex fidanzato di Tina, un certo Gianni Lamparelli, anche lui un bel soggetto da biocompostare. Infatti aveva avuto un duro diverbio con la ragazzina, che aveva portato alla loro separazione, in quanto lui voleva spingerla a prostituirsi. Vi ricordo che aveva 14 anni. Quest'altro calantuomo venne scagionato quando il 31 agosto, sempre del 1978, viene ritrovato il corpo della giovane Maria Strambelli, una ragazza, una commessa originaria di Bari, emigrata per cercare di migliorare la sua condizione, con cui Minghella aveva trascorso una serata in discoteca. Il 28 novembre scompare Vanda Scerra, di 19 anni. Alcune fonti dicono amica della Strambelli, anche lei ritrovata pochi giorni dopo in una scarpata che costeggia la ferrovia Genova-Milano, anche lei strangolata e violentata. Questa volta però, per il caro Minghella, saranno volatili per diabetici, in quanto un testimone si fece avanti e riconobbe il guidatore della macchina su cui era salita la povera Vanda, prima di far perdere le sue tracce. E sì, era lui il travoltino della Val Polcevera. Minghella fu intracciato ed arrestato nei primi giorni di dicembre del 1978. In meno di sei mesi aveva ucciso cinque ragazzi indifese, sottoponendole a strazianti umilazioni e torture. Tutte e cinque si scoprì che al momento della morte erano nel periodo mestruale. L'assassino dichiarò che alla vista del sangue era stato colto da un raptus omicida a cui non era riuscita ad opporsi. L'omunculo confesserà solo gli omicidi di Maria Strambelli e Vanda Sherra e si proclamò innocente per gli altri tre. Peccato però che fosse a conoscenza di particolari che poteva conoscere solo l'assassino, come il fatto che tutte le donne erano al momento della loro morte, nel periodo mestruale, che tutti gli omicidi seguivano lo stesso schema e che a seguito di una perizia calligrafica si riconobbe come sua la mano che aveva scritto il messaggio sul corpo della povera Tina, compresi gli errori della doppia S, ricordate? Brigade rose invece di rosse. Finalmente il 3 aprile del 1981 venne condannato in via definitiva all'ergastolo per gli omicidi delle cinque donne, da scontare nel carcere di massima sicurezza di Porto Azzurro. Beh, finalmente si potrebbe ingenuamente pensare è finita. Lo sterco orario passerà la fine dei suoi giorni in galera e chi si è visto si è visto. Ma no, ma non da noi. Minghella infatti da dietro le sbarre si era sempre professato innocente. Aveva sempre attribuito la sua confessione alle torture indicibili a cui l'avevano sottoposto gli inquirenti quando lo fermarono. Insomma, aveva confessato solo sperando di salvarsi la vita da quell'inferno. Si sarà detto, ma io ci provo, vuoi che qualche trota non abbocchi? E molti abboccarono, secondo me con enorme stupore anche dello stesso Minghella. Infatti eccolo lì il difensore degli ultimi, l'eroe degli incompresi, il faro dei reglietti, Don Andrea Gallo. Quest'ultimo si batterà con tutte le sue forze per dare un'altra possibilità al Minghella, fino a che nel 1995 riuscì a fargli ottenere la semilibertà ed entrare nella comunità di Don Ciotti in una delle cooperative del gruppo Abele dove viene impiegato come falegname. Allora, capiamoci, io non sono contro le comunità di recupero perché ci sono casi e casi, cioè chi ruba, chi commette reati che non arrivano all'omicidio o comunque non arrivano a danni contro le persone, hanno tutto il diritto, se meritato, di avere una seconda possibilità. Ma non perché si è macchiato di delitti simili, se è malato è chiaro e non è lavorando in una comune che guarirai, che riuscirai a tenere a bada i tuoi istinti e non è così soprattutto che la società sarà al sicuro da te perché sei un pericolo e come tale vai trattato. Ed invece questi che mi fanno me lo mettono in libertà, anzi insieme in libertà, dopo che ha ucciso cinque persone. E bravi tutti, la magistratura, gli psicologi, gli psichiatri, Don Gallo e tutti i benpensanti che si sono prodigati per il rilascio del galantuomo. Io glielo metterei a rotazione come vicino di casa ad ognuno di loro e poi vorrei risentire le loro opinioni. Ma perché dico questo? perché, come ben sapete, il caro Minghella, una volta uscito, ha ripreso a coltivare il suo hobby. Finalmente nel 2001 Minghella viene di nuovo arrestato per aver rapito e violentato una prostituta, Alketa Demiraji, che denunciò, oltre ai maltrattamenti a cui era stata sottoposta, il fatto che il genio, per metterle più paura e sentirsi più grande e potente, gli aveva detto di aver ucciso già altre due prostitute. Al momento gli inquirenti non sapevano che una di quelle ragazze era Floreta Islami, di 29 anni. Minghella fu iscritto nel registro degli indagati per altri due omicidi avvenuti in quel periodo. Quello di Fatima Ordidou, una donna marocchina di 26 anni, strangolata con la cintura di un accappatoio, e quello di Tina Motoc, una prostituta moldava di 23 anni, torturata, strangolata con un colla e poi bruciata nelle campagne di Collegno il 16 febbraio del 2001. Un atto dovuto, avevano sottolineato negli uffici della procura di Torino, era necessario per l'esame del DNA. I risultati dell'analisi confermarono i sospetti su Minghella e, spinto gli inquirenti, a rieprire e riesumare i fascicoli di donne uccise da un assassino misterioso, ma con modalità analoghe, a partire dal 96. E sull'ex Travoltino si sono così addensati i sospetti di aver ucciso. Ebe Musso, un ambulante di 35 anni. Eriona Sulejmani, un albanese di 16 anni. Una donna sconosciuta mai identificata. Giuliana Vilali, di 23 anni. Loredana Maccario, di 53 anni. Floreta Islami, di 29 anni. E Cosima Gina Guido, di 67 anni. Quello di Tina Motoc, l'ultimo omicidio di Minghella. Le tracce di DNA, impronti complete o parziali, ritrovate nei luoghi dei delitti. La suola delle sue scarpe con abbondanti tracce di una roccia molto rara nel torinese, ma presente in grande quantità nel luogo in cui era stato rinvenuto il cadavere della moto. Le modalità simili degli omicidi e la fascia oraria in cui sono avvenuti, tutti dopo le 17, quando Minghella è fuori dal carcere, in virtù dell'ottenuta semilibertà, portano la polizia ad arrestarlo. Minghella viene finalmente arrestato, e speriamo stavolta definitivamente, il 7 marzo del 2001. A casa sua vengono trovati i cellulari delle vittime con il numero di matricola cancellato. In particolare l'assassino aveva regalato alla sua compagna, per il San Valentino, il cellulare sottratto a Tina Motoc, il giorno del suo omicidio. Il cellulare di Minghella viene inoltre rintracciato nella zona dove si trovava la moto, la sera del delitto. Lui si giura innocente, chiama a testimoni i membri della cooperativa Piero e Gianni, una fallegnamaria del gruppo Abele, dove lavorava quando alle 7.30 lasciava la cellula del carcere delle Vallette, dove doveva rientrare alle 22.30. Maristella Ferri, 34 anni, la donna con cui viveva da due anni, ha raccontato, con me si comportava benissimo, era sempre gentile ed affettuoso e si era affezionato al bambino di 5 anni. Lo trattava come fosse suo figlio, mi aveva parlato del suo passato, ha raccontato di quelle ragazze uccise a Genova, della condanna all'ergastolo, ma diceva di essere stato costretto a confessare, di essere innocente. Si definiva la vittima di un errore giudiziario e poi in fondo salutava sempre tutti. Il personale della cooperativa ammise però che nei giorni di alcuni omicidi Minghella si era dato malato e loro gli avevano concesso di starsene a casa, violando la prescrizione del carcere. Una benevolenza candida dalle terribili conseguenze. Eppure lui continuò a rifiutare ogni accusa, rifiutò le visite di consulenti e psichiatri, si definì vittima di un complotto. Continuò a spergiurare che le sue confessioni fossero tutte state estorte con la forza. «Sai che vi dico, una volta mi ha detto bene, che ne sa se pesco qualche altra trota». Condotto nel carcere delle Vallette nella primavera del 2001, tenta di evadere fuggendo dalla lavanderia, ma riesce ad arrivare solo al primo muro di cinta. Rinchiuso nel carcere di Biella, la mattina del 2 gennaio del 2003, si fa ricoverare per dolori al petto e dal braccio sinistro nel pronto soccorso del capoluogo, riuscendo a fuggire da un bagno dello stesso. Viene arrestato alle 22 dello stesso giorno nei pressi della stazione ferroviaria. Sospettato 10 omicidi di prostitute, ma condannato solo per 4 di essi, il 4 aprile del 2003 viene condannato dalla Corte d'Assise di Torino all'Ergastolo per l'omicidio della Motoc e, a 30 anni di carcere, per gli omicidi di Cosima Guido e Fatima Idou. Al momento è rinchiuso al 41 bis nel carcere di Pavia. Il 23 gennaio del 2019, inoltre, la Corte di Cassazione rende definitiva anche la condanna ad altri 30 anni di carcere per l'omicidio di Floreta Islami, avvenuto nel 1998. La condanna è stata resa possibile grazie all'evoluzione che hanno avuto le indagini forensi sul DNA. Alla fine della fiera, nessuno chiese scusa per aver fatto uscire un pericoloso serial killer ed avergli permesso di uccidere altre donne innocenti. Don Gallo non chiese perdono per la svista, anzi tornò a visitarlo in carcere. Uscito da un colloquio, venne intercettato da un cronista e la mise così. La verità l'ho letta negli occhi di Maurizio. Lui non ha ucciso, lo so, perché abbiamo pregato insieme. Sì, ma non ti sei accorto che pregavate per motivi completamente differenti. Allora, io capisco che tu sei, anzi eri un uomo di chiesa e quindi uno dei tuoi doveri era perdonare ed essere clemente, però ci deve essere un segno, un limite invalicabile, perché altrimenti tutta questa bontà sbandierata non diventa altro, come detto, di uno squallido buonismo da quattro soldi. Per oggi ci fermiamo qui. Vi do appuntamento al mio prossimo video e vi ricordo, occhio a chi vi saluta sempre. Ciao. E Minghella stavolta ne è rimase veramente sgomento. Ma che sgomento? Ma che se sgomenta sta minchia? Comento. Comento.